Ben trovati, eccoci qua, la seconda parte di Roma Città Aperta oggi dedicata a due ospiti che ci racconteranno una storia e una tecnica molto interessanti. Al solito se volete poi fare qualche domanda chiamateci al 065910285, comunque io vi presento subito Claire Ballantyne, benvenuta, che è una formatrice di questa che con una sigla si chiama EFT o EFT se la vogliamo dire in italiano e adesso parleremo di questa tecnica di libertà emozionale come trovate scritto nel titolo ma ve la dobbiamo spiegare pian piano. Benvenuta poi a Fabiola Canelli che è un'operatrice EFT e ci racconterà anche qualcosa della sua esperienza personale perché lei si è avvicinata a questa tecnica dopo aver scoperto purtroppo su se stessa un grave problema di salute. Quindi parleremo anche un po' della sua malattia che è importante tra l'altro essendo una malattia poco conosciuta e quindi con grandi difficoltà di cura apriamo una parentesi anche su questo. Partiamo però intanto non diciamo troppi nomi tutti insieme, partiamo spiegando cos'è questa tecnica, cosa ci offre questa tecnica. Questa è una tecnica molto bella per il benessere mente-corpo che mi ha sorpreso quando l'ho conosciuto 6-7 anni fa perché funziona, è anche abbastanza profonda e nello stesso tempo è molto semplice. E' basato su conoscenze antiche della medicina cinese, alimenti molto elementari e semplici della medicina cinese che vi possiamo insegnare in pochi minuti. Noi non siamo medici. Allora abbiamo anche qualche immagine così, abbiamo citato la medicina cinese, allora come la medicina cinese utilizza ad esempio l'agopuntura in certe parti del corpo, le parti del corpo chiave sono le stesse che utilizza la tecnica. Ecco qua, questa è una prima immagine. Questo non è tanto la medicina cinese, è l'altra immagine. Allora vediamo l'altra immagine, adesso recuperiamo l'altra perché abbiamo dato... Sì, è questo. Eccola qua. Allora non so se avete già visto mappe del corpo di questo tipo, sono canali che portano in tutte le parti del corpo, secondo la medicina cinese tradizionale, l'energia vitale. E' un po' come, vedete queste lunghe strade possiamo dire, che si chiamano meridiani, e è un po' come se fossero una strada. Immaginiamo una strada percorsa dal traffico, il traffico scorre fluidamente e poi a un certo punto succede qualche cosa. Cosa succede? Un incidente, cadono dei sassi, c'è una fessura nell'asfalto e dobbiamo intervenire con ambulanze, con cariatrezzi, per mettere a posto la situazione e così dopo il traffico può riprendere a scorrere. E' molto bella la metafora. Vediamo anche la foto, ne abbiamo anche una foto fissa dove tutti i dettagli che abbiamo visto in queste immagini del corpo umano ci fanno vedere nel complesso i meridiani. Intanto continuiamo a raccontare. Quindi quando, eccolo qua, quando si interrompe questo flusso, cioè tra virgolette un incidente lungo la strada, si può intervenire in qualche modo. Insomma intervenire nel modo meno traumatico possibile è molto importante e a volte molto più efficace. Non stiamo parlando, intanto una cosa la specifico, non stiamo parlando di una tecnica medica, le nostre ospiti non sono medici, questo insomma è importante, non sono neppure psicologhe perché parliamo di qualcosa di emotivo, quindi si può pensare a quel ramo di studio. Invece no, stiamo parlando di una tecnica che magari in qualche altra parte del mondo, in altri paesi del mondo viene applicata anche nel servizio sanitario nazionale. In Inghilterra è così. Sta cominciando, sì. Allora in Italia ancora non è così, quindi diciamo è una scelta che si può fare, seguire in aggiunta naturalmente alle cure e ai consigli del proprio medico. Allora vediamo un po' come sblocchiamo queste autostrade quando si incepa. Allora invece delle ambulanze, delle auto cariche, noi usiamo due, tre o quattro dita e quello che facciamo è tocchiamo alcuni punti su questi meridiani con una digita pressione e così facendo l'ipotesi è che ogni disagio fisico o emozionale viene da un blocco in questi canali, un po' come quell'incidente, come quelle strade che vi ho descritto. Allora e quindi intanto aggiungo un'altra informazione, questo contatto lo possiamo applicare noi stessi a noi stessi, una volta che ci conosciamo abbiamo imparato i punti chiave o lo possiamo fare appunto seguiti da un operatore come in questo caso è Fabiola, come la stessa Claire, oltre ad essere formatrice naturalmente anche lei può essere operatrice. Allora, insomma così sembra molto semplice a raccontarla così, quindi diciamo ma è efficace o non efficace? Allora passiamo a Fabiola che ci dà intanto la sua storia, allora Fabiola intanto le chiedo questo dettaglio personale, è anche molto delicato perché lei ha scoperto non so quanti anni fa esattamente ma insomma di avere una malattia molto importante, che raccontaci allora Bianca. Io purtroppo non l'ho scoperto molti anni fa ma ne ho sofferto per molti anni e questa malattia si chiama fibromialgia o sindrome fibromialgica ed è poco studiata, non poco diffusa ma poco studiata e infatti purtroppo c'è ancora molta confusione per qualcuno è una malattia rara, per qualcuno reumatica, per qualcuno autoimmune ed è una malattia un po' articolata, anche un po' subdola in certe sue manifestazioni, è una malattia che non si vede, non si vede e non si vede con gli esami diagnostici soprattutto, quindi è purtroppo c'è ancora qualcuno che la scambia per un blocco psicologico piuttosto che per depressione, quando non è così. Invece i sintomi fisici di questa malattia sono gravi, degenerativi, sono invalidanti, non degenerativi ma invalidanti. Allora raccontaci insomma qualcosa anche dei sintomi della malattia così se c'è qualcuno che, non vogliamo spaventare nessuno, però insomma è giusto imparare anche a riconoscere se qualcuno non ha ancora dato... Bisogna sicuramente affidarsi a dei bravi medici che hanno voglia di cercare insieme al paziente e secondo me i pazienti non si devono assolutamente scoraggiare o fare influenzare da quello che può essere detto, perché appunto è difficile da scoprire. E se si sentono male insomma non si diano la colpa di avere loro un problema? Eh ma anche se si è inventato una malattia insomma. No, 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 anzi è una malattia come mi chiedevi di descrivere un po' i sintomi, è ricca di sintomi, quindi sicuramente colpisce l'apparato muscolo scheletrico che non significa però solo, che ne so, braccia, gambe, arti, significa tessuti, significa muscoli, tendini, può significare tessuto connettivo, possono esserci tanti... Nel mio caso per esempio ogni paziente, scusate questa è una cosa importante, ogni paziente fibromialgico è diverso dall'altro, quindi nel mio caso specifico io ho avuto tanti sintomi anche di altre malattie autoimmuni, quindi molto difficile da localizzare. E poi muscoli significa tutto, quindi può significare muscoli degli occhi, quindi un disturbo alla vista, piuttosto che tutti gli altri muscoli di cui siamo dotati. Allora, invalidante, cosa alla fine non si riesce più a fare? Alla fine o all'inizio o durante non riesci a vivere, perché non è degenerativa ma fa perdere la funzionalità dei muscoli per esempio, e quindi c'è un disturbo molto importante che è quello della sanchezza cronica e del disturbo del sonno, quindi vabbè non sto a entrare poi nello specifico, però non dormi e non recuperi, hai delle energie che finiscono molto rapidamente perché funzionano male degli ormoni e quindi non avendo un ciclo di sonno-veglia regolare non puoi recuperare. E quindi sei sempre stanco, 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 stanco. Allora, questa malattia, fibromialgia, purtroppo viene curata molto male in Italia proprio perché non è ancora ben riconosciuta. Non è pure riconosciuta, questo è un po' grave a mio avviso perché negli altri paesi forse non hanno ancora comunque trovato una cura, spero ci stiano studiando, però quantomeno è riconosciuta, quindi le persone che non possono più mantenere un ritmo di vita normale, andare a lavorare, camminare normalmente, almeno sono poi assistiti, hanno un'assistenza per invalidità in Italia. Anche perché curarla è molto difficile, può essere costoso, quindi ci sono molte persone che perdono il lavoro e non possono più far fronte. E con una diagnosi del genere lo Stato non ci aiuta in nessun modo. No, assolutamente. Questo in Italia, quindi qui ci sarebbe da fare, no, c'è sicuramente da fare, Fabiola, mi raccomando, porti avanti per quello che può anche prima persona una battaglia anche rispetto al nostro ministero per farla riconoscere. Allora, veniamo però all'incontro tra Fabiola e la tecnica di libertà emozionale, quanto e come l'ha aiutata? Tanto, tantissimo, perché sì, perché oggi sono qui, perché sono felice, riconoscente a Claire, riconoscente a tutte le persone che si sono fidate di me pur non sapendo dove stessi andando. Questa tecnica è molto, molto potente e questi piccoli picchiettamenti, questi punti che vengono picchiettati agiscono in profondità. Quindi per quanto mi riguarda non agito immediatamente sul fisico, non ho immediatamente ripreso le forze o la capacità di muovermi bene liberamente in tutto il corpo, ma ho subito percepito che era talmente profonda questa cosa a livello cognitivo, per esempio, e ho subito riacquistato la fiducia di poter collaborare con questa malattia, di poter far qualcosa su di me, sul mio corpo e poi sulle persone che insomma mi stanno intorno, perché... Dalla tua malattia non sei guarita, tu devi continuare a combattere la tua battaglia. Io non combatto e non ho neanche una battaglia, io collaboro, perché a parte che non ti so dire se sono guarita o no, nel senso che io non mi sento malata. Sicuramente non senti più quei sintomi che ti lasciavano? No, assolutamente, anzi se ti posso fare una percentuale così casuale azzardata di come me sto, ti posso dire che io penso di non camminavo quasi più e io ho riacquistato credo il 70-80% di forza nelle gambe e anzi a questo proposito vorrei dire a te e a tutti insomma, io solo dopo aver riacquistato una certa forza fisica ho potuto affrontare una fisioterapia, perché il corpo aveva e ha comunque bisogno di essere riabilitato ed è una fisioterapia particolare, multidisciplinare e anche in questo caso è stato molto bello perché ho incontrato una fisioterapista moltissimo preparata si chiama Tiziana Polli e con lei è nata una collaborazione per fare EFT e fisioterapia per le persone che proprio vogliono, bisogna proprio volere, volere, volere vivere, vivere bene e curarsi perché bisogna avere molto amore e molta cura di sé per poter affrontare le cose. Organizzeremo altre puntate su questo tema, non nello specifico su questa tecnica che poi potrete approfondire perché su internet ci sono tante informazioni, tra l'altro la cosa bellissima è che l'inventore di questa tecnica ha messo a disposizione gratuitamente tutte le sue conoscenze, tutte le sue informazioni, non ha voluto guadagnare un dolore, non ha brevetato, non ha brevetato e ha lasciato tutto libero, questo è importante. Allora detto questo, è importantissimo l'altro tema che si vince da questo, e che voglio continuare ad approfondire, quanto è forte questo legame tra mente e corpo, insomma se riusciamo a star bene con la mente, starà bene il nostro corpo e viceversa le due cose non sono più scindibili assolutamente. Ormai insomma lo dicono un po' tutte le scienze. Allora, qualche altro esempio di applicazione, perché insomma nel caso di Fabio abbiamo una storia proprio di soluzione di una malattia grave, però la tecnica la possiamo utilizzare tutti noi, viene utilizzata anche in settori strategici, mi ha colpito per esempio nello sport, gli allenatori la consigliano. Sì, sì, per portare per esempio la propria squadra a vincere il trofeo, ci sono allenatori negli Stati Uniti che usano tuttora questa tecnica con grandi risultati, perché le persone non si rendono conto di tutte le risorse che hanno dentro di sé e delle volte hanno delle emozioni, sentono delle emozioni che li possono bloccare nella loro realizzazione piena delle loro capacità, dei loro talenti, delle loro abilità. E quindi questa è una tecnica che lavora sulle emozioni ed è una tecnica che trasforma, perché con EFT noi possiamo trasformare emozioni limitanti, come tanti tipi di paura, per esempio risentimento, eccessiva rabbia, vergogna, cose del genere, possiamo trasformare queste emozioni in emozioni che ci sostengono, che sostengono i nostri progetti di vita. Allora vi posso dare qualche altro esempio, per esempio una persona che vuole raggiungere un peso ideale, oppure una persona che vuole avere risultati migliori a scuola, o qualcuno che vuole relazioni migliori con i suoi familiari o colleghi, o qualcuno che lavora nello spettacolo, che vuole realizzarsi di più, cantanti, attori, musicisti, e chiunque abbia la sensazione che qualcosa li sta bloccando nella piena realizzazione di se stesso. Sì, nella salute, al lavoro anche, per aiutare le persone ad avere più fiducia in se stessi, ad essere più proattivi, a riconoscere il proprio potere personale. Allora, mi dispiace che appunto tutto questo alla fine ancora sia poco riconosciuto in Italia, perché ad esempio in Gran Bretagna già viene utilizzata anche per affrontare la depressione. Allora qui ho notizie di una ricerca svolta all'Università di Staffordshire in Inglaterra, dal professore Tony Stewart, vi do tutti i dettagli, è uno specialista in salute pubblica, si è interessato in questa tecnica e ha convinto l'ASL di un paesino che si chiama Sandwell di fare un progetto pilota. Hanno preso 40 persone che soffrivano di depressione, anche abbastanza gravi in alcuni casi, e 39 di queste persone sono uscite fuori molto bene. Uno dei motivi per cui questa cosa funziona così bene è che gli operatori possono insegnare facilmente al paziente. E' la semplicità che fa la forza di questa tecnica. E' semplice e lo possono fare a casa e questo fa la differenza. Per cui hanno avuto questi risultati molto importanti. Bene, allora, diamo qualche riferimento anche su internet. Intanto il nome Gary Craig del fondatore, diciamo dell'idiatore, dell'inventore di questa tecnica. Gary Craig è un ingegnere laureato a Stanford University negli Stati Uniti che si interessava a tecniche di crescita personale e ha saputo che un psicoterapeuta di nome Robert Callahan aveva scoperto un legame tra questi punti e lo stato emozionale. E la storia è abbastanza divertente. Lo posso raccontare? Sì, sì, ci abbiamo ancora qualche minuto. Ok. Allora, questo dottor Callahan stava lavorando con una sua paziente che soffriva di una fobia per l'acqua e stavano vicino a una piscina. Allora, il dottor Callahan ha chiesto quando vedi la piscina come ti senti e lei ha detto mi viene mal di stomaco. Lui ha avuto un'intuizione perché conosceva un po' la medicina cinese e quindi si ricordava che il punto del meridiano dello stomaco sta sotto gli occhi proprio in questo punto qua. E gli ha detto tocchi un po' questi punti. lei ha fatto così come sto facendo adesso e dopo un minuto questa è la storia che si racconta come l'origine di EFT lei si è alzata ha detto se ne è andato cosa? il mal di stomaco? No, la fobia e si è buttata nell'acqua. Così? Questa è la storia. Allora, questo Robert Callahan faceva corsi corsi per professionisti per imparare questa tecnica costavano 100.000 dollari i corsi e era un processo estremamente complesso con diversi protocolli per ogni tipo di disturbo mentre in EFT abbiamo un solo protocollo per qualsiasi disagio. Allora Gary Craig era uno degli allievi di questo psicotelopeiuta ha imparato la tecnica e poi ha detto semplifichiamolo. L'ha semplificato così tanto che adesso 10 milioni di persone nel mondo lo usano come tecnica di autoaiuto. Ecco, questo volevo sapere in quanti oggi la stanno dire 10 milioni sono tantissime ma rispetto al suo potenziale ancora nel mondo sì, sì, sì e quindi adesso si sta diffondendo molto perché è praticamente gratuito impararlo all'inizio almeno e perché è tanto efficace è tanto semplice e tutti lo possono imparare anche i bambini. Allora per avere altre informazioni adesso non mi so a dare tutti i siti comunque basta appunto fare ricerca si trovano sia siti in inglese che in italiano a seconda della lingua che preferite anche Claire Ballantyne ha appena aperto il suo spazio via internet quindi si chiama saluteenergetica.com quindi se avete voglia di maggiori informazioni vi segnalo anche questo spazio poi insomma se volete qualche contatto chiamateci e ve li diamo ringrazio tantissimo le nostre ospiti entusiasmante il vostro intervento tra l'altro anche per i bambini qua c'è un libro per i bambini si può applicare in maniera semplice si possono far superare le paure e i bambini insomma sono i primi ad avere questo tipo di bisogno e insomma grazie di averci seguito grazie a voi di averci raccontato tutto questo ci vediamo domani alle 15.30 con una città aperta